Perché abbiamo provato a cambiare il provvedimento in aula e nelle commissioni, perché non si può cambiare una gradatoria in corso d'opera, ci sono ragazzi che verranno scavalcati da altri concorrenti per il solo motivo di avere un giorno in più della data di nascita, della data fissata. E poi soprattutto non stanno chiedendo a questi ragazzi di entrare direttamente in polizia, loro chiedono solamente la possibilità di concorrere. Perché escludere dei ragazzi che si sono preparati tutti questi anni nelle prove fisiche, le prove attitudinali e quindi li togli questa possibilità? È una discriminazione e apre anche un precedente pericoloso, perché c'è una generazione di ragazzi di 30 anni, 28 anni, che questi concorsi non li hanno mai visti, non hanno avuto la possibilità. Un concorso che è stato fatto, dargli la possibilità di concorrere e mettersi in gioco con gli altri. Siccome poi noi li garantiamo anche assistenza legale, perché la loro speranza adesso, noi lo riteniamo che sia un provvedimento anticostituzionale che viola anche determinate leggi, quindi noi gli daremo anche assistenza legale, perché non finisce qui la parità politica. Si stanno violando delle leggi, soprattutto non ci basta neanche la spiegazione del capo della polizia che dice da padre di famiglia. Io non sono un padre di famiglia, ma mi rendo conto che una generazione di ragazzi, ripeto, non può essere discriminata in base all'età. Oggi a 30 anni, a 28 anni o a 27 anni non puoi considerarti vecchio, tantomeno nel deficit di personale che hanno le forze di polizia. Hanno bisogno di questi ragazzi, stanno togliendo un sogno e soprattutto non possono pensare che le forze di polizia poi verranno ritenute da questi ragazzi o le istituzioni corrette nel momento in cui cambi le regole. Queste regole non devono essere cambiate, queste regole devono essere lasciate così come sono. Quindi chiediamo al governo di tornare indietro, perché i ragazzi devono avere la possibilità di correre, di fare le prove fisiche e di scontrarsi con gli altri.